Nata degli scontri diretti per la salvezza, il Potenza espugna il campo della Cavese per 1-0 e abbandona l'ultima posizione in classifica, scavalcando l'Andria e raggiungendo a 12 punti il Foggia e il Real Marcianise. Al dodicesimo del secondo tempo una punizione del difensore potentino Vanacore, deviata da Schetter, decide l'incontro, insaccandosi alla destra dell'incolpevole Russo. Per la Cavese è la prima sconfitta casalinga del campionato, una battuta d'arresto imprevista che la fa sprofondare nella zona calda dei play-out. Nel primo tempo la squadra metelliana si rende pericolosa al settimo con un colpo di testa al lato di Schetter, su corner di Tarantino. Al nono ribatte il Potenza con un colpo di testa di Polani, deviato dal portiere Russo. Al ventisettesimo e al trentatresimo si rende ancora pericolosa la Cavese, prima con un pallonetto di Majorano neutralizzato da Chiavaro sulla linea, poi con Bacchiocchi che tira fuori. Nel secondo tempo la Cavese sostituisce Majorano con Bacchi per cercare di far suo l'incontro, spostando Favasuli al centro, ma non riesce a rendersi mai veramente pericolosa. Da segnalare al quarto il tiro di Schetter, parato a terra da Tesoniero, prima dell'azione del Potenza Polani-DeCesar, che al decimo Russo sventa, per poi soccombere due minuti più tardi sulla punizione di Vanacore. Vittoria meritata per il Potenza che mette nei guai una disordinata Cavese.